con i siti web, tra cui Wikipedia.org. Nato a Tirana, in Albania il 7 aprile 1974. Entra giovanissimo all'Accademia Nazionale di Danza, dove si è diplomato nel 1992. Nello stesso anno è entrato a far parte del corpo di ballo del Teatro dell'Opera, di Tirana, dove è ricoperto, fin dall'inizio, ruoli solistici in balletti di repertorio quali Giselle, lo schiaccianoci. Don Quixote, Daphne e Chloe. Il mastro Carlo Palacios fu il primo a riconoscerne le doti, come riconoscerà in una intervista sul palco a Castelnuovo Nemonti, e a indirizzarlo verso la carriera nel mondo della televisione. La prima esperienza televisiva arriva nel 1996, e dall'anno seguente è diventato primo ballerino in programmi noti al grande pubblico quali Buona Domenica. C'è posta per te d'amici di Maria De Filippi. Clédi se n'è andato. La nuova vita del ballerino, il ballerino è passato da essere un allievo, fino a ricoprire la nomina da insegnante. I suoi ruoli televisivi l'hanno visto, come concorrente in diversi programmi, come Buona Domenica, e c'è posta per te. Nel 2004 ha fondato una scuola di danza, la Clédi Dance a Roma, mentre l'anno dopo è sbarcato al cinema con il film di successo Passo a Due. Una carriera strepitosa, che tuttavia non ha soddisfatto, fino a fondo il ballerino. L'ultima apparizione è stata nel 2016, quando Clédi lavora al fianco di Belen Rodriguez a Pequenos Vigantes, un talent dedicato ai più piccoli. Da quel momento solo apparizioni sporadiche, fino al silenzio più totale. Clédi se n'è andato. La notizia è stata un colpo al cuore, ma d'altronde è stata una scelta dettata dal suo desiderio di lasciare un paese che gli ha dato tanto, ma che non ha colmato il suo desiderio più grande. Clédi è nato il 1974 a Tirana, capitale dell'Albania. All'età di vent'anni si trasferisce in Italia per seguire la sua passione nel ballo, ma la sua terra di origine ha sempre fatto emergere un senso di malinconia e appartenenza nell'uomo. Da diversi anni infatti, Clédi Cadiu è tornato in Albania, dove continua a lavorare in tv e a insegnare ballo. Ad oggi è giudice di Dancing Will Star, versione albanese di successo del nostro ballando con le stelle.